Siamo nuovamente, come ogni principio d'estate o festività, a celebrare l'ennesimo regalo che si fa a queste banche private italiane. Questo decreto narra di un regalo e sborso diretto, parole del Ministro Piercarlo Padoan, di 5 miliardi di euro di soldi pubblici dei cittadini italiani. In più verranno concessi 12 miliardi di euro a titolo di garanzia, perché se effettivamente qualcosa dovesse andare storto vogliamo essere sicuri che nessuna banca ci metta nemmeno un centesimo. Quindi chiaramente questa somma fa 17 miliardi di euro, quindi 5 miliardi di sborso diretto più 12 miliardi di garanzia pubblica. A chi vanno questi soldi? Vanno a banca intesa praticamente, banca intesa che firma un contratto con Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza per, tra virgolette, salvarle con i soldi nostri. Ma c'è qualcosa che non va, mi verrebbe da dire. C'è qualcosa di incostituzionale in questo decreto. Soprattutto se, passaggio fondamentale, mostriamo agli italiani un passaggio del contratto che Banca Intesa fa con le banche venete, al costo di un euro perché i soldi ce li mettono i cittadini italiani, dove al punto 10.1 si dice questo, ascoltate cari colleghi parlamentari, ascoltate come avete svenduto la vostra sovranità politica alle banche private. Ascoltate, se il decreto legge Banca e Veneto non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e o integrazioni tali da rendere più onerosa per Banca Intesa San Paolo l'operazione e non fosse pienamente in vigore i termini di legge, verrebbe a concludersi questo contratto, ovvero Banca Intesa. Se noi facciamo qualche modifica, cari signori parlamentari, perché non ci va bene qualcosa e questo è il nostro ruolo, il ruolo di regiferare come Parlamento, allora la cara Banca Intesa dice guardate a noi non ci sta più bene, se le cose non si fanno come diciamo noi, se voi fate qualche modifica come Parlamento non siete più sovrani, i sovrani siamo noi banchieri privati e questo, se permettete, è l'apoteosi dell'incostituzionalità di questo decreto che non credo in nessun altro paese del mondo possa mai essere accettato una sudditanza tale alle banche private rispetto a quello che fa un Parlamento. Di cosa dobbiamo parlare oltre questo? Cosa altro vi serve per convincervi che non è questo il modo di legiferare sul sistema bancario italiano? Ma vogliamo aggiungere altre cose perché non ce n'è una che ci dà una nota positiva di come viene formulato questo decreto. Parliamo della questione del commissario che viene scelto da Banca d'Italia per la liquidazione amministrativa coat delle banche venete. Sapete come si chiama questo commissario? Si chiamerà Fabrizio Viola. Sapete Fabrizio Viola che chi è? È uno di quelli che gestiva il crack che voi avete contribuito a creare in quota Partito Democratico di Monte dei Paschi di Siena. Viola è attualmente rinviato a giudizio per manipolazione del mercato e falso in bilancio per il crack di Monte dei Paschi. E voi lo mettete a fare il liquidatore coatto delle banche in crisi. Ma è una roba da scoppiare il cervello. Scoppiare il cervello. Non ha alcun senso quest'operazione. E noi effettivamente andiamo ad allargire questi soldi alle banche in cambio di che cosa? Se i cittadini italiani ci mettono 17 miliardi, cosa hanno in cambio? Hanno in cambio una partecipazione alla banca, mi verrebbe da dire. Non c'è. Hanno in cambio un ristoro di qualche tipo. Non c'è. Sono soldi di tutti i cittadini italiani che vanno a finire in un calderone regalandolo a banca intese in modo tale che metta insieme e salvi le banche venete. Le salva le banche venete? Per voi tagliare 3.900 posti di lavoro è salvare le banche venete? Per voi cancellare 600 filiali sul territorio significa salvare le banche venete? Per voi ridurre il numero di prestiti alla piccola e media impresa che intesa chiaramente attiverà sul territorio è salvare le banche venete? Questo è distruggere il sistema bancario italiano, non è salvare le banche venete. Se si vuole salvare un sistema si deve intervenire in maniera strutturale nel sistema. Oggi abbiamo appreso che i signori Vegas, presidente di Conso Bevisco, presidente governatore della Banca d'Italia, non possono venire in audizione, non possiamo ascoltarli su questo provvedimento. Allora ci manderanno delle memorie, delle memorie in contumacia mi verrebbe da dire. Gente che invece di fare la vigilanza dovrebbe stare in galera a vita per quello che hanno combinato al sistema italiano. Perché se c'è qualcuno che ha investito lo ha fatto sulla base di informazioni che aveva. Le informazioni che aveva erano controllate da Conso Bevisco e Banca d'Italia. E si suppone siano delle informazioni garantite, delle informazioni vere. E invece oggi dobbiamo stare a commentare lo scoppio di questa bolla di decine e di migliaia di azionisti privati di un loro diritto. Quello di partecipare al capitale di una banca. Di decine e di migliaia di persone che hanno investito i loro risparmi. Non avete idea di quante persone ci iscrivono e scrivono anche a voi. E vi dicono ma perché io che ho comprato lo stesso prodotto, che ha comprato un cittadino italiano come me, io l'ho comprato online e lui l'ha comprato davanti alla banca, io non devo avere alcun tipo di ristoro e lui sì. Perché questa disparità e quindi violazione dell'articolo 3 della Costituzione italiana? Violazione dell'articolo 47 della salvaguardia del risparmio della Costituzione? Ma che fine hanno fatto questi principi? Guardate che il 4 dicembre voi avete perso. La Costituzione non è stata modificata perché gli italiani la vogliono così com'è, con tutti i principi al loro interno e devono essere rispettati. Allora questo qui è il primo passaggio di appaltare l'attività legislativa alle banche private. Questo decreto è stato scritto sotto dettatura di banca intesa dal Ministero dell'Economia e Finanza. Questo è un dato di fatto acclarato, ve lo sto mostrando. Questa è la firma del notaio Marchetti. Lo potete trovare, lo pubblicheremo in rete, deve essere pubblica questa informazione. Perché questi qua stanno facendo un contratto con i soldi dei cittadini italiani e voi l'avete reso segreto fino al 26 di giugno. Questo modo è inaccettabile. Allora oggi, anche se molti di voi sono distratti, qualcuno pensa magari al mare, ma del resto è sempre così. Quando si parla di banche, o li fate il 23 dicembre, quando uno pensa al Natale, o li fate a luglio o al ferragosto. I regali del resto si fanno durante le occasioni speciali. E allora quello che vi chiedo è che oggi, vi prego, portate a raccolta tutto il vostro voler mantenere la sovranità parlamentare rispetto a quella finanziaria. In questo contratto, che ripeto, è firmato da tre banche private, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, con intesa dall'altra parte, grazie ai soldi dei cittadini italiani. Questo è il passaggio. Sono delle aziende private, delle banche private, che ci dicono come scrivere un decreto e che questo decreto non può essere modificato. Io lo chiedo alla maggioranza. Voi potete decidere come volete su come salvare il sistema bancario, su quanti soldi dargli, ma vi prego, vi prego, ritenete indispensabile salvaguardare la sovranità di questo Parlamento rispetto al potere finanziario delle banche private. Questo è il problema dei problemi. Oggi votate su questo. Votate favorevolmente alla pregiudiziale di incostituzionalità. Grazie. Ringrazio collega Sibilia.